Uno schizzo fatto a mano ed inviato al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio che si è dimostrato interessato. Il futuro della piattaforma offshore di Venezia, uscito di scena il principale fautore della grande opera, l'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Costa, sta tutto qui. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro lo ha rivelato a Pino Musolino che di Costa ha preso il posto. In sostanza all'interno della lunata di Malamocco realizzata per proteggere la conca di navigazione lunga circa un chilometro potrebbero trovare sistemazione due ormeggi per grandi navi porta container che dunque si troverebbero al riparo dal mare agitato e vicino al terminal di terra e a Marghera. La piattaforma offshore a quel punto non sarebbe più necessaria ridotta ad un punto protetto per lo scarico delle petroliere, una soluzione che fra l'altro comporterebbe il risparmio di 2 miliardi di euro. Il progetto offshore è stato approvato dal Cipe che lo ha finanziato per quel che riguarda le strutture a terra, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da finanziatori privati. La strada però con la Regione Veneto contraria resta in salita e Trieste, i cui traffici sarebbero penalizzati da uno scalo veneziano decisamente più competitivo, può tirare un sospiro di sollievo.